Lo scorso 14 novembre l'ufficialità dell'esonero di Coach Cadeo, il giorno seguente la firma come nuovo allenatore di Andrea Nicolai. La Fiorentina Basket prova a cambiare rotta e per migliorare una situazione di classifica inaspettatamente negativa è a lavoro da poco più di una settimana il nuovo allenatore. Trovate una squadra con tanta voglia di fare, con tanta voglia di uscire da questa situazione non ottimale. Abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti, la scorsa settimana culminata con la partita di sabato un po' anomala per come è finita, sospesa per impraticabilità di campo, nel basket è molto raro. Non siamo stati neanche molto fortunati perché eravamo avanti dopo un buon scorcio di partita e la partita ripartirà da 0 a 0, quindi perderemo questo vantaggio. Però è stato un 15 minuti di basket incoraggiante dove ho visto delle buone cose, dove i ragazzi hanno cercato di fare quelle cose che abbiamo provato a fare nuove rispetto alla gestione precedente e sono contento che ci sia stata questa applicazione. Un nuovo allenatore che per via del Lodo Foschetti non ha ancora potuto accomodarsi in panchina e che ha assistito dagli spalti alla sospensione della gara tra i Viola e Cecina. Relegato in tribuna durante l'ultima partita, coach Nicolai può lavorare in allenamento e sta provando ad inserire delle novità nel gioco della sua squadra. Nella settimana non riesci a dare la tua impronta, la tua identità, però sicuramente abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo. Abbiamo tenuto e otterremo diverse soluzioni tattiche anche precedenti perché comunque sono frutto di tre mesi di lavoro, alcune cose erano molto efficaci. La strada è questa, avremo un periodo con 5-6 partite in tre settimane, dopodiché dopo la sosta di Natale con 15 giorni fermi penso di poter mettere alcune cose in maniera più profonda dentro il nostro bagaglio tecnico, tecnico-tattico e essere pronti nella prima partita di gennaio, 4 gennaio, veramente con tutte le cose giuste da fare, secondo come intendo la pallacanestro io. Per adesso ci vuole equilibrio nel dosare questi inserimenti perché chiaramente con tante partite avvicinate più di tanto non si può fare. Tanto lavoro da fare dunque, Nicolai spera di avere una squadra che somiglia alla sua idea di basket a partire da gennaio. Nel frattempo però cercherà di ottenere più punti possibile per rimanere in linea con l'obiettivo dichiarato dalla società del presidente Piacenti ad inizio stagione. Sì, siamo una buona squadra, l'obiettivo è raggiungere i play-off per poi essere fra le squadre che nel fine stagione si giocheranno le partite spareggio, lì bisogna arrivare più in forma possibile. Siamo indietro rispetto a questa tabella, dobbiamo fare qualche colpo esterno per recuperare gli scivoloni interni fatti con Piombino e con Empoli. C'è stata la sconfitta con Domodossola che è pesante rispetto all'obiettivo play-off, però appunto siamo qui per cercare di rimediare e di rientrare in orbita il post-season.